Sofia, un Verona così nel primo tempo, molto meglio nella ripresa, cosa manca ancora per arrivare ad essere una squadra solida Arcigna, che comunque può dare fastidio a tutte? Secondo me, come anche la scorsa partita, l'approccio non è stato dei migliori perché nel primo tempo non eravamo subito aggressivi come nel secondo e ci manca ancora questo passo, però siamo sulla buona strada e speriamo di fare bene la prossima partita che è molto importante. Però comunque si è vista la reazione nel secondo tempo e sul 3-2 ci abbiamo anche creduto tanto, però poi ho preso il rigore purtroppo. Sei partita titolare per la prima volta in questa stagione, dopo i problemi che iniziano ti avevano un attimo colpita. Adesso c'è una partita importante, un po' sfortunata oggi anche con quella traversa. Sì, sono stata molto contenta di essere partita titolare perché non vedevo l'ora e si è purtroppo presa la traversa, però... ci ho provato e adesso spero di continuare a far bene per la squadra e per fare al meglio il nostro percorso.